Ragazzi abbiamo trovato il vero paradiso della subacquea Ci troviamo a Marsa Shagra in Egitto perché i ragazzi resti diving safari ci hanno invitato per scoprire il loro villaggio Neanche il tempo di svuotare le valigie nella nostra camera che stavamo già esplorando la barriera corallina più ricca che abbiamo mai visto Che da 30 anni è zona protetta E il bello è che dopo una prima immersione in cui la guida ti spiega il posto Puoi farne quante ne vuoi per conto tuo, sia con le bombole che in apnea Perché l'intera struttura è pensata proprio per questo Hai il tuo armadietto con l'attrezzatura e con solo pochi passi raggiungi questi coralli e questi pesci stupendi Da principiante esperto non ti resta che prepararti e tuffarti Per oggi è tutto, ciao!